Momento d'oro per la coppia più invidiata di Hollywood, Pete Jolie. Se Brad rimane uno degli attori più ricercati e pagati, Angelina risulta essere l'attrice più pagata al mondo. La 36enne americana, che recentemente ha fatto anche visita a Lampedusa con 30 milioni di dollari guadagnati nell'ultimo anno, è la regina della classifica stilata da Forbes sulle 10 attrici meglio retribuite. Tutte insieme le star presenti in questa top 10 hanno guadagnato nell'ultimo anno 218 milioni di dollari lordi. 60 di questi sono merito di Angelina, 30 milioni di dollari appunto, e di Sarah Jessica Parker, stessa cifra anche se di qualche migliaio inferiore alla collega. Al terzo posto ci sono Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, 28 milioni di dollari, quinta invece Julia Roberts, dopo di lei c'è Kristen Stewart con 20 milioni di dollari guadagnati anche grazie alla saga di Twilight.